Le vie dello shopping si spostano ad ovest inoltre po', così sembrerebbe giudicare dai dati diffusi da Ascom sulle aperture e le chiusure delle attività commerciali nel 2023 appena concluso e che mostrano una vitalità superiore, anche se non di molto, a Casteggio rispetto a Broni e Stradella. Dopo un 2020 anno della pandemia terribile per tutti, con dati in negativo per tutte e tre le cittadine della Via Emilia, dal meno 8 di Casteggio almeno 4 di Broni, le attività hanno iniziato a riaprire un po' ovunque con saldi positivi fra aperture e chiusure di alcune unità, con il record proprio a Casteggio di più 20 nel 2021. Le nuove attività allora furono 37 a fronte di 17 cessazioni. Discreto anche l'anno successivo, il 2022, con dati ancora in positivo, mentre il 2023 ha confermato la frenata della post-pandemia. L'anno scorso a Casteggio è stato di più 8 attività commerciali, mentre a Broni è tornato il segno meno, 8 le attività che hanno aperto a fronte di 12 chiusure, meno 4. Non ancora pervenuti i dati di Stradella, fino a non molto tempo fa, reginetta del commercio e della Movida della Via Emilia, anche se, secondo alcuni osservatori, il 2024, complici i prezzi degli affitti piuttosto elevati rispetto alle altre cittadine, non sembrerebbe essere partito con il vento in poppa. Casteggio rimane il comune più dinamico dal punto di vista apertura e chiusura, mentre Broni rimane sempre un po' più in difficoltà. Stradella non abbiamo ancora i dati delle aperture e chiusure, quindi tra Casteggio e Broni diciamo che quello un po' più in difficoltà è Broni.